È passata una settimana ormai, c'è un limite a tutto! Si può sapere che fine ha fatto Kojiro? Io forse lo so! Credo che il capitano sia andato a Okinawa per raggiungere Mr. Kira. Come scusa? Innanzitutto non so chi sia questo Mr. Kira e poi hai detto che si trova a Okinawa. Sì, esatto. Hyuga è entrato in questa scuola per giocare a calcio qui.